Scopriamo in questo video i 7 motivi per cui tu fallisci nel vendere in chiamata i tuoi servizi o i tuoi prodotti Partiamo subito Premetto ragazzi che io ormai ho circa 200.000 euro di trattative portate a buon termine Quindi non ho fatto ancora i milioni lato vendita Ma ragazzi ci siamo nel senso ho iniziato ad accumulare un bel po' di vendite di trattative Almeno un centinaio tra quelle chiuse non le ho fatte Quindi quello che ti sto dicendo in questo video è ovviamente frutto della mia esperienza personale Soprattutto di questo ultimo anno Quindi ascoltemi attentamente La prima domanda che mi faccio è Quante call sei abituato a fare con i tuoi clienti? Perché se tu sei ancora quel tipo di venditore, quel tipo di imprenditore Che fa soltanto una chiamata e pretende già nella prima chiamata di passare la trattativa E quindi di vendere il tuo servizio prodotto Beh questo è il primo grave errore che stai facendo Perché parliamoci chiaro tra me e te A te ti piace così acquistare di impulso a caso senza avere chiaro quello che andrei a fare Oppure ti piace prenderti del tempo e valutare bene l'offerta Ora per chi ti dice che devi vendere subito se no il cliente sparisce Ragazzi quel tipo di clienti sono pessimi clienti Perché sono persone molto deboli, molto semplici ma in senso negativo del termine Quindi noi non vogliamo quel tipo di cliente Noi vogliamo un cliente che è sveglio Che se si prende l'impegno di fare una seconda chiamata Poi lo rispetta E soprattutto se tu offri servizi e quindi sai che dovrai avere a che fare più volte nel tempo con quel potenziale cliente Che poi in teoria diventerà cliente Se questa persona è inaffidabile, non rispetta gli appuntamenti, non si presenta in seconda call Lui si sta già autosqualificando Quindi non vi preoccupate il fatto di introdurre una seconda chiamata Perché sì, l'errore principale è quello di voler fare tutto subito Invece il metodo corretto è quello di fare una prima chiamata conoscitiva di circa mezz'ora Dove fai domande specifiche e ovviamente le domande che si fanno e gli argomenti che si trattano sono fondamentali Mi servirebbe qualche ora per spiegare tutto quanto il processo che ho affinato in quest'ultimo anno E soprattutto poi se il cliente potenziale realmente, realmente ragazzi, è in target con quello che noi offriamo Allora facciamo fissare una seconda chiamata A distanza di tempo, non al giorno dopo No, a distanza di una settimana, di 5 giorni, di 4 giorni, di 8 giorni Certo, non tra un mese Perché tra un mese si rifà la prima chiamata E questo è fondamentale ragazzi Perché in questo modo hai possibilità di nutrire il potenziale cliente con tantissimo materiale Qui i video entrano in gioco e fanno la differenza Affinché poi quando la persona arriva in seconda chiamata è molto più nutrita e molto più calda Questo ovviamente non significa che la seconda chiamata sarà facile Che non dovrai essere bravo nel vendere perché ovviamente farai la differenza Tuttavia questo ti facilita molto E soprattutto un altro errore che molti professionisti fanno Come te, può essere, è quello di fare chiamata al telefono E non video call su Zoom o su Google Meet Questo ragazzi è fondamentale perché è molto semplice Se io ho la possibilità di vedere la persona in video oltre che con l'audio Cavolo, ho tantissime più informazioni Sia dal punto di vista di chi offre il servizio E sia dal punto di vista di chi lo andrà a acquistare Quindi ragazzi, visto che la vendita si basa sulla fiducia Se io ci metto la faccia e vedo anche la faccia del mio potenziale cliente Beh, sicuramente la fiducia che posso trasmettere nella prima e nella seconda call Sarà maggiore, giusto? Non sto parlando con un telefono Sto parlando con un essere umano Anche se siamo a distanza Secondo errore, il tuo stato energetico Ragazzi, ma abbiamo capito che l'acquisto avviene attraverso l'energia Che noi trasmettiamo all'altro essere umano Ragazzi, voi potete essere depressi quanto vi pare E vi capisco Perché pure io ho avuto delle fasi di questo tipo Ma tutto si basa sull'energia Che cosa succede? Che quando tu sei in fase di call I primi secondi I primi 1-2 secondi Cioè devi essere bello felice Ora non devi essere troppo entusiasta Però ti faccio un esempio Tu non puoi iniziare la call dicendo Ciao, benvenuto Come stai? Nome Benvenuto in questa call conoscitiva Sono felice di vederti Ragazzi, questo è un tono del cazzo Cioè, ci sono pochi termini Per cui descrivole in modo diverso Cioè, è proprio un tono molto depotenziante Invece, se inizi la call dicendo Ciao, benvenuto Come stai? Piacere nome Felice che sei qua con me Da dove vieni? Fammi capire Cioè, senti che il mio tono di voce È nettamente a un altro livello? Ora, ragazzi Nemmeno io sono un attore E quindi Non possiamo pretendere di essere perfetti Però già il tono di voce Che ti ho dimostrato adesso In un attimo È totalmente diverso E per il tipo di vendite che facciamo Va più che bene Quindi È nostra responsabilità Prima che andiamo in call Metterci in uno stato mentale Fisico Energetico Ovviamente mi riferisco a questo Potenziante Fate quello che vi serve Tipo io delle volte ascolto la musica Oppure salto Oppure semplicemente sto già bene Quindi sono tranquillo O comunque Quando faccio la call So che devo essere Devo entrare in quel mood Una cosa che ad esempio faccio È quello di non mangiare troppo A ridosso delle call Perché so che se sono abbioccato Cioè sicuramente sarò meno pimpante Ok? Quindi sono piccoli accorgimenti Veramente molto semplici Che ti rendi conto tu stesso Che basta poco Per fare la differenza Se fai questo Sicuramente il primo impatto Sarà nettamente differente Le probabilità di chiusura Saranno nettamente superiori Il terzo errore È quello di non fare domande Purtroppo agli inizi Quando non sei abituato A vendere Ma in realtà Quando non sei abituato A comunicare davvero Con gli esseri umani E questo è ancora più grave Non sei abituato A fare domande Cioè tu dai tutto per scontato Pensi che hai già capito Che l'altro cosa vuole dire Quando in realtà Non hai capito niente Fare domande ragazzi È davvero Una delle chiavi più importanti Per vendere Io faccio sempre domande Ai potenziali clienti Ai miei amici Alle mie ragazze A chiunque Faccio sempre domande Perché? Perché sotto sotto Mi interessa anche Perché? Se non mi interessasse Con quelle persone Manco ci passerei il mio tempo Mi segui? Invece Tanti altri esseri umani Si sono abituati A sopportare Stare con persone Che non vogliono Ovviamente stare insieme E quindi tipo Sono passivi Non è così che si fa Quindi è fondamentale Fare domande Che domande? Chiaramente ragazzi Dipende dalla nicchia Dal settore Ma sicuramente Uno degli aspetti Che dovete fare Vediamo più tardi È quello di parlare Dei soldi Dei problemi Di come stai Di quali sono Le tue difficoltà Cioè fare domande Scavare Io ad esempio Non seguo più uno script Io non seguo niente Vado totalmente a braccio Perché? Perché ormai Ho imparato Una struttura mentale Che mi consente Di seguire un flusso Ovviamente ho una mini scaletta Ma niente di che Comunque questo Se volete Lo possiamo approfondire In un altro video Oppure attraverso Il mio affiancamento Ti posso aiutare Ma sappi che fare domande È la chiave Anche perché Ricapitolando Riesci a ottenere Tra i vari benefici Questi tre Il primo è che Risulti seduttivo Quindi il fatto Che tu fai domande Fai percepire Anche inconsciamente All'altro Che lui È al centro Dell'attenzione Quindi lui È speciale Lui il protagonista E sei tu invece Che lo stai Tra virgolette Seguendo Quindi è molto potente È una sensazione Molto bella Il fatto che Qualcuno ti fa domande E se non sei abituato Ti fa stare anche un po' In soggezione Perché Mi fa domande Cioè non sei abituato Mi capitava anche a me A questo tipo di emozione E quindi Molto interessante Secondo punto È fondamentale Il fatto che Facendo domande Hai la possibilità Di scavare Scoprire davvero Quali sono i suoi Problemi I suoi veri problemi E questo è l'unico modo Per offrire una soluzione Per vendere Un servizio Un prodotto Se no Cosa vendi a fare Invece Il terzo beneficio È che Facendo tu domande Ragazzi Siete voi Che state guidando La conversazione L'unico modo Per riuscire a vendere In senso positivo Un servizio Un prodotto A un tuo potenziale cliente È quello di guidare La conversazione Sia in prima E soprattutto In seconda Call Sta cosa qua ragazzi È troppo importante Il quarto errore Che vedo spessissimo fare Riguarda sempre La questione energetica Del come lo fai sentire Perché tantissime persone Tantissimi venditori Quando iniziano a Parlare in call Non fanno altro Che parlare loro Oh Ma la call si fa Affinché È il potenziale cliente Che parla a te Purtroppo spesso Mi viene detto Che Eh ma io devo parlare Perché devo spiegare Il mio servizio No Non è così Non è vero Infatti per questo È fondamentale Imparare A realizzare video Nello specifico video Che vendono Che è la mia specialità Perché così Avrai i video Che lavoreranno per te E che li farai vedere In altri momenti Tu adesso Devi conoscere Questo potenziale cliente Ci devi parlare Sia in prima Che in seconda call Poi chiaramente Ti prenderai dei momenti Per anche tu Dare informazioni Spiegare i benefici E così via Ma la cosa più importante È farlo parlare Perché Il nostro obiettivo È far sentire A proprio agio Far sentire bene Il nostro potenziale cliente Perché È vero Nella vendita Si acquista Attraverso le emozioni Ma non le emozioni Della scarsità O le emozioni Di non so che cosa Di manipolatorio Non è quella roba lì La vera emozione Che porta Le persone ad acquistare È il fatto Che si sentano bene Nel prendere Quella decisione Cioè Spesso si dice Ah ma come mi ha trattato bene Quella persona Guarda Gli do volentieri i soldi Perché se li merita Questa è l'emozione Che tu devi far Suscitare Nell'altra persona E non pensare Che sia così Di complesso difficile Io un anno fa Non sapevo minimamente Parlare in call Sì Ho la parlantina Ma non sapevo Come metterla nel modo corretto Quindi Se ce l'ho fatta io Ce la puoi fare Tranquillamente anche te Ah e ovviamente ragazzi Evitate Assolutamente Atteggiamenti Arroganti O atteggiamenti Da snob Roba che alcuni Fuffaguru Hanno insegnato un po' In questi ultimi anni A avere Ma che è totalmente Depotenziante Nella vendita Verso un potenziale cliente Quindi Essere gentili Essere disponibili Incitare a fare domande Far presente che Più domande fai Più tu sei soddisfatto Felice Che appunto lui Te li faccia Cavolo è questo Quello che devi fare Ovviamente Senza farti trattare Come uno zerbino Facendoti rispettare Ma Facendo Sentire a proprio agio Il tuo potenziale cliente Il quinto errore Riguarda invece La parte dell'educazione Step fondamentale Affinché Le chance Le probabilità Che la prima E soprattutto La seconda call Vadano a buon fine Come mai? È molto semplice Anche se tu Sei un bravo venditore Un bravo imprenditore Che sa vendersi Non puoi pensare Che una persona A freddo Quindi che non ti conosce Acquisti il tuo prodotto Il tuo servizio Così Tanto per Per chi C'ha voglia Non è così ragazzi Soprattutto se offrite Servizi particolari Poi dovete educare Il potenziale cliente Dovete metterlo in una condizione Che lui acquisti Come? In modo consapevole Quindi è fondamentale Creare Dei contenuti Che devono essere Inviati Al potenziale cliente Ancora prima Di fare la prima call Infatti La questione Di creare Un personal brand È una figata Pazzesca Come mai? Molto semplice Perché grazie Al personal brand Un potenziale cliente Ancora prima Di avervi contattato Per una prima call Si può vedere Tutti i video Che avete pubblicato E dopo anche 20, 30, 50 Mini video Anche un 10 15 video Su youtube Cavolo Un essere umano Ha molte più informazioni Riguardo il tuo conto Rispetto a Prima Quindi è molto importante Educare il potenziale cliente Infatti Un'altra cosa Che io faccio sempre Che abbiamo sempre fatto È usare Calendly Affinché Questa è una cosa Che tu devi trovare Il modo Che lui risponda A tutte le domande Altrimenti La call non si fa Perché così Tu hai informazioni E in base a quelle informazioni Tu ci puoi già chattare Oltre che al fatto Che molte call Vengono fissate ormai Grazie alle chat Ma soprattutto Se tu ci puoi chattare Perché hai già delle info Puoi già scavare in chat Così già gli puoi mandare Dei video più specifici Così già arriva in prima call Che è 3-4 passi avanti Oltre che risparmiare Tanto del tuo tempo Le probabilità che acquisti Sono maggiori Quindi è solo un vantaggio Educare il potenziale cliente Tra l'altro Se non c'ha voglia Di vedere sti video Questo è un campanello d'allarme Questo è una red flag Ti fa capire Che forse Non è così motivato E quindi non si merita Se non mi fido Allora posso acquistare Se io non mi fido Io non acquisto Anche perché Attenzione Se io ho i soldi Ma non mi fido E vedi che comunque non acquista Quindi non è una questione di soldi Non è che perché io ho i soldi Allora acquisto No Perché tra l'altro Chi i soldi ce li ha Perché se li hai guadagnati Sa benissimo Che prima di investire In qualsiasi cosa Vuole capire Se l'investimento Sarà con più probabilità Corretto Per la propria realtà Quindi Per capire Se una cosa è corretta Si va comunque sulla fiducia E la fiducia Si riesce a generare Attraverso le informazioni E le informazioni Si generano Grazie ai contenuti Che divulghiamo Che inviamo anche ad hoc Vi chiamo io Video che vendono Ok Quindi Più prove Più dimostrazioni Diamo al nostro potenziale cliente Di quanto noi siamo competenti E dei clienti Che abbiamo aiutato E più appunto Sarà educato Più sarà consapevole E potrà rilassarsi Di più Quindi abbassare le difese E quindi Aumentare le chance Che acquisti da voi Infine Il settimo errore Uno dei più gravi È quello di avere paura Di parlare di soldi Ragazzi Sta cosa qua A livello inconscio La percepiscono I potenziali clienti Tantissimo Soprattutto Se tu offri Un servizio business Come il mio Oppure anche se vendi al privato Perché? Perché a maggior ragione Se il privato È un target Dove Non è alto spendente O comunque Insomma Ha un po' di difficoltà Con i soldi Tanta gente Ha proprio un blocco Quando parla di soldi A maggior ragione Tu devi essere Tranquillo E rilassato Nel parare di soldi Offerte Tutto quanto Perché Così hai modo Di anche influenzare In positivo Il potenziale cliente Così anche lui Si rilassa Perché vede Per specchio Che tu Che tu Quando parli di soldi Sei tranquillo Ma In ambito business È proprio Necessario Cioè non è un optional Ok? Quindi Se hai difficoltà A parlare di soldi Quando parli della tua offerta Qui bisogna assolutamente Lavorarci Pure io avevo questa difficoltà E l'unico modo È allenarsi Allenarsi Prendere confidenza Capire esattamente Anche come muoversi Perché non è che basta Allenarsi a caso Magari fosse così Bisogna seguire Dei step ben precisi Affinché tu In prima call Attenzione In prima call E anche nel questionario Di Calendly Parli di soldi Io spesso Dopo 10-15 minuti Parlo già di budget Perché? Perché è ovvio Se tu C'hai 50 euro C'hai 500 euro E metti caso L'affiancamento Costa 4.000 3.000 Insomma quello che è Di cosa stiamo a parlare Oppure Se hai soldi Ce l'avrai tra due mesi Ok facciamo la colta A due mesi Mindset di abbondanza Non cerchiamo di vendere Tutto a tutti Perché non esiste Non funziona Chiaro ragazzi? Quindi Questi qua Sono stati I sette Motivi Per cui le persone Falliscono principalmente Nel vendere I propri servizi Attraverso le call Sono sicuro Che queste informazioni Ti sono state utili Perché Io un anno fa Cioè Facevo l'opposo Di tutto questo Quindi Ed era un disastro Infatti Ho sempre avuto difficoltà Io a vendere Se anche tu Comunque Vuoi essere aiutato da me Vuoi comunque un confronto A capire come posso aiutarti Ragazzi Qua sotto In descrizione Di youtube Trovate un link Appunto di Calendry O anche un whatsapp diretto Come preferite C'è anche instagram Quindi insomma Avete un bel po' di link Per fissare O una call conoscitiva Direttamente con me Oppure scrivermi su whatsapp O su instagram Per insomma Avere più informazioni Hai già capito Con questo video Che la mia unica Tecnica di vendita È quella di darti Più informazioni possibili Quindi se tu Sei interessato Interessata E vuoi appunto Approfondire Senza impegno Allora questi qua Sono i link Che fanno per te Ti aspetto dall'altra parte E buona vendita Conoscitiva Che fanno per te Grazie a tutti.